ha iniziato la sua carriera negli anni 70 coi poliziotteschi, le commedie sexy all'italiana, e film comici dell'epoca, con ruoli che sfaziavano dal tifoso al poliziotto, dal medico al giudice, tra le partecipazioni più importanti quella in Vieni Avanti Crettino di Luciano Salce, nei Petomane di Pasquale e Festa Campanile, con Ugo Tognazzi, in Banzai con Paolo Villaggio, nel Commissario Logato di Dino Risi e nelle Comiche Due di Neri Parenti. Oggi è dedito più al teatro con apparizioni televisive saltuarie in fiction o sceneggiati sia in Mediaset che in Rai, ha partecipato a delle pubblicità Progresso dei Ministeri, delle Poste Italiane, dell'Espresso ed altre ancora. In teatro ha lavorato a lungo con l'accompagnia attori e tecnici di Attilio Corsini e con il dramma, Italiano di Fiume, Croazia, durante la gestione Damiani Mangano, in Commedie di Marin D. R. Zic, Molière, Carlo Goldoni, Peppino De Filippo, Ghigo De Chiara.